La Regione Campania ha approvato i programmi per l'edilizia ospedaliera con un investimento di 2 miliardi di euro destinati a strutture e attrezzature sanitarie per l'intero territorio. Dopo l'annuncio del Presidente De Luca è stata espressa soddisfazione da Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale. Un impegno finanziario così significativo ha dichiarato Pellegrino che è stato fortemente voluto dal Presidente De Luca e condiviso dall'intero Consiglio. Era atteso da anni e rappresenta un passo fondamentale per migliorare il sistema sanitario della nostra Regione. Molte sono le risorse destinate alle strutture sanitarie della provincia di Salerno, ricordiamo in particolare 5 milioni di euro all'ospedale Luigi Curto di Ipolla. Adesso, ha commentato il capogruppo di Italia Viva, attiene anche alle nostre responsabilità fare in modo che i lavori vengano realizzati nei tempi più rapidi possibili, risuperando gli ostacoli burocratici che tante volte determinano continui e infiniti rallentamenti, vanificando l'intento di migliorare attraverso l'efficienza infrastrutturale anche l'efficacia delle nostre realtà. Tommaso Pellegrino non ha neanche lesinato alcune critiche. Ottimo il lavoro di programmazione della Regione Campania, al quale dobbiamo far seguire una esecuzione altrettanto rapida ed efficace per evitare di perdere opportunità importanti, come nel caso dell'ospedale di comunità di San D'Arsenio, ha denunciato Pellegrino, dove mi sono recato nei giorni scorsi per un sopralluogo, il reparto dedicato alla radiologia necessita di interventi strutturali rapidi affinché possa accogliere un nuovo e moderno mammografo con tomosintesi che rappresenterà un importante e particolarmente utile servizio per il territorio del distritto sanitario 72 Vallo di Diano.